Sono circa 60.000 le donne che ogni anno in Italia si ammalano di tumore al seno. Se la malattia però viene individuata nelle sue fasi iniziali, il tasso di guarigione si attesta intorno al 96%. Proprio per questo la Liga Italiana per la lotta contro i tumori ha promosso al Circolo Posillipo di Napoli una giornata di sensibilizzazione sul tema della prevenzione, la principale arma contro questa patologia. Si tratta di un'iniziativa che rientra nell'ambito della campagna nazionale Nastro Rosa Lilt for Women 2024 organizzata dalla sezione partenopea dell'associazione preseduta dall'Adolfo Gallipoli del Rico. Sappiamo a proposito dello sport, a proposito dell'alimentazione, a proposito dell'apporto psicologico che oggi il 30% delle neoplasie potrebbero essere se non sconfitte, nettamente ridotte se si praticasse una sana alimentazione, un'attività fisica costante. Nella sede del Circolo prima si è svolta una sessione di controlli clinici senologici, poi è stata la volta delle uscite in mare con le sirene partenopee, la squadra del Dragon Boat della Lilt Napoli, capitanata da Eleonora D'Angelo. Lo sport è importante per noi donne che abbiamo affrontato una diagnosi di tumore al seno perché ha un effetto riabilitativo a livello sia fisico che psicologico. presente anche Filippo Smaldone, vicepresidente del Circolo Posillipo. Lo sport è prevenzione e quindi noi siamo grati alla Lilt di Napoli.